In questa lezione parleremo del censimento degli invertebrati. Gli invertebrati rappresentano il 99% di tutte le specie animali, sono quindi un gruppo che ha avuto una grandissima radiazione evolutiva. Tendenzialmente gli invertebrati sono molto piccoli rispetto ad altri gruppi animali. È vero che vi sono i calamari giganti che possono arrivare fino a oltre 10 metri di grandezza, ma normalmente gli invertebrati sono minuscoli, in alcuni casi sono difficili da vedere a occhio nudo. Questo fatto che la loro dimensione sia così limitata fa sì che questi animali siano molto sensibili a quello che noi possiamo chiamare il micro habitat, quindi le condizioni fisiche presenti in una porzione di ambiente molto limitato. Se ad esempio andiamo in una foresta e cerchiamo di vedere la presenza dei cervi, possiamo pensare che il cervo percepisca la foresta come un tutt'uno, non ci sono grosse differenze per il cervo tra l'essere dietro l'albero oppure davanti all'albero. Invece per un invertebrato anche semplicemente la pagina superiore di una foglia avrà un micro habitat molto diverso dalla pagina inferiore. Al di sotto noi avremo una grande umidità, poca luce, temperature più basse, mentre nella pagina superiore della foglia ci sarà molta più luce, l'ambiente sarà un po' più secco e ci sarà meno umidità. Quindi per un invertebrato anche solo porzioni di pochi centimetri possono avere una grande differenza di habitat. Pensiamo ad esempio anche alla corteccia, al di sopra della corteccia, verso l'esterno l'ambiente sarà molto secco, molto luminoso, pochi millimetri più in là sotto la corteccia l'ambiente sarà umido, coperto e quindi buio e sarà quindi molto diverso. Questo è molto importante per chi deve fare dei censimenti di invertebrati perché ci sarà una grande diversità tra censire il micro habitat adatto oppure censire un'intera area, compresi anche gli habitat non adatti alle specie che stiamo cercando. Una volta che gli animali sono stati trovati durante la ricerca quasi sempre non è possibile riconoscere direttamente la specie, tranne alcune specie appariscenti oppure ben conosciute e per le quali non ci sono altre specie simili. Molte volte bisogna prendere gli animali e portarseli a casa dove verranno esaminati non solo occhio nudo ma con l'aiuto di una lente molto potente oppure addirittura di un microscopio. Per trasportare gli animali a casa si possono usare metodi anche molto semplici, tubi di vetro, barattoli con il tappo sopra oppure delle buste in cui mettere gli animali. I campioni poi portati a casa dovranno essere tenuti nell'ambiente adatto, ad esempio in un frigorifero a 4 gradi potrebbe essere l'ambiente adatto per animali delle acque fresche che altrimenti in un ambiente più caldo morirebbero subito. Importante poi alla fine dopo che si sono determinati gli animali usando appunto delle lenti e dei metodi appropriati riportare gli animali esattamente nello stesso punto in cui sono stati prelevati perché altrimenti gli animali poi non potrebbero andrebbero incontro a morte non trovando più l'ambiente adatto. Il punto 2, separare predatore da predatore, mi fa venire in mente un'esperienza di quando ero bambino. Io abitavo in Val Chisone, non tanto lontano dal fiume, quindi ogni tanto andavo a giocare lungo il fiume. Mi piaceva molto saltare da una pietra all'altra, ma ogni tanto alzavo le pietre e guardavo gli animaletti che erano presenti sotto. Sono poi tricotteri, femmerotteri, plecotteri, sono piccoli insetti acquatici che amano stare sotto le pietre. Talvolta me ne portavo a casa, poi mi mettevo in un barattolo che mettevo sul comodino prima di andare a dormire, poi la mattina dopo quando mi svegliavo in questo barattolo in cui avevo messo magari 10 animaletti me ne trovavo solo più 2 o 3. Finché non ho preparato questi lucidi di zoologia applicata ho sempre pensato che fosse mia mamma che me li faceva scomparire questi animali durante la notte e invece ho capito che probabilmente mischiavo prede e predatori quindi i predatori approfittavano dell'occasione per mangiarsi gli altri invertebrati delle prede quindi non bisogna fare questo, bisogna tenere separati eventualmente animali e predatori da prede. Molte volte purtroppo non basta catturare gli animali vivi, poi pensare di liberarli perché la determinazione richiede invece animali che stiano fermi che sia possibile esaminare microscopio in dettagli finissimi addirittura bisogna aprire l'animale per vedere delle strutture morfologiche interne e quindi una pratica molto comune di questi studi invertebrati è quella di avere una collezione di animali di confronto. Gli animali possono essere mantenuti per tempi lunghissimi in alcol a 70 gradi. Se sono un po' grandi, quindi c'è un po' di carne, potremmo dire, con termini improprio, si può aggiungere il glicerolo al 5% facendo però attenzione perché il glicerolo è una sostanza tossica. Le farfalle messe in alcol perdono, sono delle epidotte, perdono queste lepide che si staccano e quindi vanno tenute a secco. In generale possiamo dire che quando è possibile riconoscere gli individui direttamente a occhio, è bene non catturarli e non ucciderli. Però le collezioni di invertebrati sono molto diffuse, ci sono ancora cassette entomologiche valide e ben conservate dal 700-800, quindi noi possiamo avere con questi animali presenti in collezione dei dati di presenza o alle volte anche di abbondanza di invertebrati negli ultimi due-trecento anni. Questa è la tabella riassuntiva più importante di tutta questa lezione. è una tabella che ha nelle righe, la prima colonna a sinistra, ci sono tutti i vari invertebrati, vari gruppi tassonomici, si parte dagli spugni e coralli che appartengono agli cnidari come le meduse, quindi sono quelli comparsi prima nella scala evolutiva, sono quelli alla base e poi si va su passando ai vermi e poi si arrivano agli artropodi. Vedete che ci sono tantissime righe dedicate agli insetti, perché gli insetti sono il gruppo di animali più diversificato sul nostro pianeta, sono anche molto diversi, le farfalle sono diverse, ad esempio dalle libelle o dalle cavallette, quindi ci sono metodi appropriati per ogni gruppo di insetti. E poi ci sono delle colonne in questa tabella, ogni colonna rappresenta un metodo, è indicato se il metodo è applicato sovente oppure soltanto qualche volta, se la cella è bianca vuol dire che il metodo non si usa. Noi li esamineremo tutti questi metodi, uno per volta, quindi non tornerò più su questa tabella, però quando poi si esamineranno questa lezione, ricordatevi che si fa sempre riferimento a questa tabella man mano. Il primo metodo e la prima colonna, vedete, è la ricerca diretta e ci sono dei segni di utilizzo in tutti i gruppi, quindi la ricerca diretta è il metodo principale, utilizzato sempre per gli invertebrati. Caratteristiche della ricerca diretta sono che è un metodo molto semplice, si va nell'ambiente con i propri occhi, eventualmente con le proprie mani per poter muovere un po' il terreno e si contano direttamente gli invertebrati. Il vantaggio è che il metodo è semplicissimo, non richiede strumenti costosi, i propri occhi e le proprie mani non costano nulla, sono già presenti e poi eventualmente è necessario qualche piccolo strumento, ad esempio un retino per catturare gli animali che possono scappare un po' più, che non si riesce a vedere direttamente con i propri occhi e quindi il vantaggio è che è un metodo pochissimo costoso e facilmente realizzabile. Lo svantaggio è che richiede molto tempo perché riuscire con i propri occhi a cercare uno per uno tutti gli individui presenti in un'area è una cosa che richiede molto tempo. Ci sono dei metodi più efficienti, ad esempio lo vedremo poi, sono quei metodi di trappolaggio. Con le trappole si piazzano delle trappole, poi si va via, si torna dopo qualche giorno e durante tutti questi giorni il metodo di cattura ha prodotto dei numeri di individui che sono fitti nelle trappole e quindi sono molto più efficienti in termini di tempo. Ci sono anche dei bias con la ricerca diretta perché il cervello umano, i sensi umani, i nostri occhi sono più attirati dalle specie più grandi, quelle più colorate e anche da quelle più attive. Gli animali che stanno fermi vengono visti difficilmente dal nostro sistema visivo mentre un animale che si muove viene percepito più facilmente. E qui vedete delle possibilità che si hanno per scovare più facilmente alcuni animali che vanno cercati con la ricerca diretta. Ad esempio gli scorpioni hanno una superficie del corpo che riflette gli ultravioletti e poi sono animali tipicamente notturni e quindi il sistema adatto è quello di andare in giro di notte con una lampada ultravioletti a cercare questi animali che si vedono molto bene. Anche le lumache o le chiocciole sono animali che amano molto l'umidità e quindi bisognerà cercarli di notte ad esempio quando l'umidità è maggiore oppure dopo un periodo di pioggia allora si potrà uscire a fare una ricerca di questi animali sempre una ricerca diretta. Alcuni animali sono molto mobili quindi non è possibile sapere a che specie appartengono se vi sono delle specie simili senza catturarli allora in questo caso la ricerca diretta diventa una ricerca molto attiva con un retino e questo sistema è utilizzato molto per le libellule e per le farfalle i retini sono molto simili bisogna essere bravi quindi a catturare questi animali al volo ma con un po' di pratica si può diventare molto bravi in alcuni casi gli animali sono veramente molto piccoli quindi non si riesce a prenderli con le proprie mani senza schiacciarli e per poter vedere a che specie appartengono o eventualmente per contarli si tratta di ragnetti oppure pseudoscorpioni insetti veramente molto piccoli in questo caso allora si può ricorrere a un sistema di aspirazione qui vedete lo schema in basso a sinistra e poi un caso pratico c'è un tubo che viene messo in bocca con cui si aspira l'aria dall'altro tubo si aspira il microscopico invertebrato che finirà dentro il barattolo e questo può essere utile anche per animali molto piccoli non schiacciarli se si prendono con le mani oppure nel caso di ragni o altri animali che potrebbero essere pericolosi per evitare di doverli toccare con le mani alla fine si avrà un indice di abbondanza quindi l'idea è che più animali ci sono più animali si vedono e questo indice di abbondanza può essere una vera e propria densità ed è la cosa migliore quindi si fa un conteggio per unità di area si delimita una superficie e si conta quanti invertebrati sono presenti per superficie alla fine si avrà n numero di individui diviso l'area è la miglior cosa possibile ma non sempre è possibile delimitare un'area precisa come abbiamo detto allora in questo caso si può calibrare lo sforzo lo sforzo può essere misurato in termini di tempo quindi avremo il numero di animali catturati all'ora oppure al giorno oppure per unità di vegetazione ci torneremo su questo sono dei metodi molto utilizzati in ambito agrario l'unità di vegetazione può essere la pianta e in un frutteto ad esempio si delimitano 5 piante e su quelle piante si contano il numero di animali di solito sono parassiti presenti il conteggio per unità di area quindi è molto è l'ideale tutte le volte in cui è possibile farlo bisogna delimitare un'area ben precisa e poi contare tutti gli animali presenti questo invece è nei casi in cui non sia facile o non sia possibile delimitare un'area ben precisa questo può essere presente anche negli ambienti tridimensionali in cui più che l'area vale il volume da censire pensiamo alle foreste tropicali che hanno una grande tridimensionalità perché le piante sono molto alte e allora in questo caso si può standardizzare per il tempo e alla fine avremo un indice di abbondanza che sarà il numero di animali visti oppure catturati al minuto oppure se si fa un campionamento di un'ora il numero di animali visti o catturati all'ora questo è il metodo per unità di vegetazione l'unità di vegetazione può essere l'intera pianta molto utilizzato in ambito agrario quando si contano i parassiti degli alberi da frutta oppure se le piante sono troppo grandi si può sezionare ad esempio 10 foglie per ogni pianta e si conta quindi il numero di parassiti per foglia un'altra possibilità è quella se le foglie sono molto difficili da contare pensiamo ad esempio alle conifere che hanno degli aghi piccoli e sottili non contare gli aghi ma pesarli prendere quindi un campione di aghi contare i parassiti quelli si vedano bene ma non contare gli aghi che invece vengono pesati un'altra possibilità è quella contare il numero di steli nelle canne ad esempio nei fragmiteti si preleva un certo numero di canne e poi si dà il numero di parassiti presenti per unità di vegetazione un altro metodo che permette di avere un dato quantitativo è il transetto vale anche per gli invertebrati ci sono due casi molto comuni molto famosi sono il conteggio lungo transetti delle farfalle diurne si ricava il butterfly index in Gran Bretagna questi transetti sono numerosissimi vengono fatti da dei volontari da molti anni e quindi si può sapere se le popolazioni farfalle diurne in Gran Bretagna sono in aumento in diminuzione questo specie per specie un'altra possibilità è il dragonfly index sempre lungo un transetto di 100 metri standardizzato vengono contate tutte le libellule e anche in questo caso si potrà vedere poi dei trend specie per specie anno dopo anno oppure confrontare zone diverse dell'Europa il transetto può essere applicato è ancora più comodo anche per animali sessili come patelle, cozze, vongole eccetera lungo una costa si fa un percorso si conta il numero di animali le colonne successive della tabella iniziale sono relative a metodi di cattura quindi quasi tutti sono metodi di cattura chiaramente dedicati a un particolare gruppo di invertebrati e allora esaminiamo in generale cosa si ricava da un metodo di cattura l'idea generale è che maggiore il numero di invertebrati presenti maggiore sarà il numero di animali che finiscono nelle trappole e quindi avremo un indice di abbondanza sarà indice uguale a n è un numero di animali caduti nelle trappole diviso il numero di trappole però c'è anche una differenza se noi lasciamo le trappole piazzate per un giorno cattureremo un certo numero di animali ma se le lasciamo piazzate per 5 giorni la probabilità sarà di catturarne 5 volte di più quindi bisogna dividere anche per il tempo di cattura è l'unità di misura che viene chiamata il giorno trappola quindi il numero di individui per giorno trappola attenzione perché tutte le volte che si utilizzano delle trappole non si arriva a una densità noi non sapremo mai qual è l'area quante restesse l'area da cui sono arrivati gli animali che sono caduti poi dentro la trappola quindi non avremo una densità animali al metro quadro o al chilometro quadrato o all'ettoro come si può fare con altri metodi però l'indice di abbondanza immaginiamo che sia proporzionale al numero di animali presenti nell'area quindi è un indice non è una densità ma è sempre molto utile attenzione anche all'effetto di rimozione sulla popolazione locale ci sono molte specie specialmente quelle di grandi dimensioni come alcune cavallette libelle e farfalle che hanno popolazioni molto piccole sono diventate molto rare in questo caso se noi trappoliamo gli animali potremmo avere una distruzione completa della popolazione che stiamo campionando quindi bisogna rinunciare al trappolaggio per le popolazioni molto piccole che sono a rischio di estinzione vediamo un esempio immaginiamo che una studiosa francese abbia piazzato 20 trappole le abbia lasciate per 7 giorni poi sia tornata e abbia trovato dentro le proprie trappole immaginiamo delle pitfall trap ad esempio 1400 insetti un altro studioso un italiano questa volta ha piazzato 10 trappole le lasciate per 5 giorni e ha catturato 400 insetti ci chiediamo ci sono più insetti in Francia o in Italia se confrontassimo solo 1400 con 400 potremmo dire che ci sono tre volte più insetti in Francia rispetto all'Italia ma è chiaro che non si può fare questo confronto senza tenere conto dello sforzo e allora vediamo di fare i calcoli in Francia noi abbiamo un indice che sarà il numero di animali caduti in una trappola 1400 diviso 7 giorni e per 20 20 sono le trappole otterremo quindi 10 individui per giorno trappola ogni giorno ogni trappola cattura in media 10 individui in Francia in Italia il calcolo ci dà 800 diviso 5 per 10 quindi 16 individui per giorno trappola quindi anche se in Italia abbiamo catturato molto meno insetti rispetto alla Francia la densità è estremamente più elevata 16 contro 10 quindi un 60% in più in Italia questo sistema è un sistema di trappolaggio adatto per insetti volatori si chiama trappola acquatica consiste in un piatto o in una bacinella in cui è presente dell'acqua penso che abbiate tutti quanti provato alle volte a fare un picnic nei prati oppure a casa aver mangiato sul balcone durante l'estate può capitare che un qualche insetto volatore finisca dentro il piatto in cui stiamo mangiando questo perché è molto comune gli insetti volatori sono tanti e ogni tanto atterrono e se c'è una trappola possono finire dentro queste trappole hanno dell'acqua al loro interno si prevede che gli animali anneghino nell'acqua però l'acqua ha una grande tensione superficiale quindi gli animali potrebbero nuotare sulla superficie dell'acqua e arrivare sul bordo e poi scappare salvarsi quindi si usa mettere del tensio attivo basta anche solo una goccia di etersivo che fa sì che l'animale non riesca a muoversi sulla superficie dell'acqua ma anneghi oppure si può mettere del liquido preservante dell'acqua o un po' di olio questo è un esempio di queste trappole piazzate nell'ambiente esterno colori bianchi o gialli sono molto efficienti per la cattura di animali volatori sempre per animali volatori si possono usare queste trappole trappole aeree sono delle reti molto sottili di nylon che non vengono viste dagli animali che volano che però ci vanno a sbattere dentro e quindi finiscono poi con avere il proprio volo interrotto cadono per terra e nella parte bassa ci sono delle bacinelle di nuovo con la solita acqua o con detergente che catturano gli animali io ho visto queste trappole all'opera al col de Briatolet che è un colle a 2000 metri al confine tra Francia e Svizzera in questa zona c'è un grande passo migratorio di uccelli di fatti c'erano delle reti molto simili usate dagli ornitologi per catturare gli uccelli in migrazione che venivano poi inanellati e però c'erano anche gli entomologi che avevano le loro reti piazzate che catturavano gli insetti in migrazione durante il periodo autunnale le popolazioni di animali che sono presenti in Scandinavia in Polonia in Russia nel nord dell'Europa si spostano verso il sud dell'Europa o verso l'Africa e arrivati sulle Alpi si convogliano in queste vallate svizzere le costeggiano e vanno poi in Francia e in Spagna il flusso migratorio è impressionante e questi studiosi le catturavano proprio in queste reti qui vedete delle reti più piccole in cui vedete comunque sotto le bacinelle con l'acqua in cui cadono poi gli insetti che vanno a sbattere nelle reti poi atterrano sotto e vengono intrappolati e quindi vedete altre sempre con l'idea che l'insetto vada a sbattere dentro a questa trappola e poi cala sotto una trappola molto famosa è la trappola Malaise in cui la rete forma poi alla fine una specie di capanna una piccola capannuccia gli insetti che volano finiscono dentro a questa zona però poi quando anziché cadere verso il basso in questo caso volano verso l'alto e finiscono in un condotto dove c'è un piccolo tubo nella parte alta che poi li convoglia dentro dei barattoli in cui c'è dell'alcol questo perché molti insetti quando vengono interrotti nel loro volo quando poi ripartono tendono a volare verso l'alto e questa trappola Malaise frutta questo loro comportamento un altro tipo di trappola che può essere utilizzata per la cattura di invertebrati è la trappola che utilizza la luce come attrattivo molti animali si muovono di notte in particolar modo gli insetti pensate alle falene che si possono vedere anche nelle città attorno ai lampioni hanno quindi una vita notturna e sono attirati però dalla luce questa trappola che vedete è una trappola che sfrutta una luce attrattiva quindi una lampada al neon oppure magari una lampada ultravioletti per attirare l'animale l'animale quando arriva poi va a sbattere su queste alette di metallo che sono molto calde quindi l'animale viene quasi bruciato un po' stordito da questo calore e cade poi sotto nell'imbuto dove ci sono dei liquidi di conservazione acqua e alcol ad esempio è un po' simile alle lampade elogene che potremmo avere anche a casa e ci capita magari alle volte di notte di avere qualche insetto che cade sulla lampada e viene bruciato in questo caso la lampada le alette di metallo non sono così calde perché altrimenti il corpo dell'animale sarebbe troppo bruciato non sarebbe più possibile riconoscere la specie qui vedete di nuovo una trappola luminosa con la lampada e qua invece una trappola luminosa che vi è stata lasciata nei campi e qui c'è un pannello solare che ricarica le batterie in modo che la lampada possa funzionare per molti giorni senza essere poi sorvegliata tutti i giorni dalle persone questo che vedete è lo schema invece di una trappola luminosa in cui abbiamo una lampada e poi abbiamo un lenzuolo molto grande questo è un metodo molto utilizzato dagli studiosi che vanno negli ambienti tropicali che per ragioni di spazio di bagaglio di peso non possono portarsi dietro grandi pesi allora può capitare che prendano anche solo un lenzuolo bianco del proprio letto che esse viene steso tra due alderi nella foresta e poi c'è la lampada che illumina in questo modo la superficie che attrae gli insetti è estremamente grande gli insetti volatori e poi è possibile fare dei conteggi degli animali che si appoggiano sul telo qua la vedete nell'immagine senza uccidere gli animali possono essere contati se si riconosce la specie senza bisogno di prenderli catturarli portarli via quindi si avrà un indice di abbondanza maggiore il numero di falene in questo caso di farfalle notturne maggiore sarà il numero di animali che si vengono attirati e si posano sul telo non sono solo farfalle quelle che si attirano ma una grande quantità di animali ama volare di notte qui invece l'esca non è luminosa ma è odorosa molti animali invertebrati hanno pensate agli insetti hanno delle antenne che sono dei sensori chimici efficientissimi questi animali riescono a sentire l'odore quindi a percepire delle molecole anche a distanza di chilometri e con delle unità veramente molto limitate bastano poche molecole per scatenare dei riflessi nervosi in questi recettori chimici piazzati sulle antenne e quindi si possono utilizzare come vedete in alto a sinistra delle trappole in cui c'è una sostanza che emette degli odori di sotto sono sostanze marcescenti possono essere dagli escrementi per gli animali che utilizzano questa sostanza organica oppure frutta in decomposizione banana frutta e marce gli animali in alto a sinistra sono animali camminatori che arrivano a tratti si appoggiano sul terreno mangiano un po' di cibo poi partono verso l'alto e finiscono dentro alla bottiglia contenente del liquido acqua e alcol ad esempio quella invece in basso è una trappola per animali più volatori che si appoggiano alla trappola che viene appesa dai rami e in questo modo si catturano gli animali quando poi questi partono verso l'alto di nuovo finiscono dentro il tubo l'odore più interessante per un animale volatore potrebbe essere il feromone ossia l'odore della propria specie di un partner della propria specie i maschi qua vedete l'immagine sinistra di una farfalla che ha queste antenne complicatissime sono in grado di sentire il feromone emesso dalle femmine a grandi distanze in passato ma ancora adesso si può usare delle trappole si possono usare trappole feromoni in cui ci sono proprio delle femmine vive messe dentro la trappolina che attirano i maschi però specialmente per le specie che rappresentano dei danni per le coltivazioni agrarie le industrie chimiche sono diventate brave e hanno imparato a sintetizzare il feromone femminile e questo attira quindi i maschi senza il bisogno di avere la femmina viva ma basta avere una scatoletta con il feromone chimico ricostruito e vedete poi che gli animali che arrivano finiscono o intrappolati dentro una rete come nella parte destra oppure appiccicati sulla su della carta come in quella a sinistra e in questa carta che vedete sempre a sinistra si vede gli animali che sono rimasti appiccicati tirati dal feromone sono arrivati e quindi si ha un indice di abbondanza si possono contare quanti animali sono stati catturati e l'idea è che è maggiore sia il numero di animali e maggiore il numero di animali che rimangono appiccicati un altro odore interessante che piace ad alcuni insetti è l'odore della nitride carbonica quindi si hanno le trappole a CO2 tra gli animali più reattivi a questa trappola ci sono le zanzare e quindi questo è un metodo che può essere fatto per fare i censimenti dell'abbondanza delle zanzare può essere utile poi per decidere se il sindaco deve pagare ordinare un trattamento anti zanzare quando ad esempio si supera una soglia di abbondanza predefinita e questo invece sono gli odori rilasciati da dei liquidi in fermentazione acqua e zucchero acqua e frutta marcia e questo è un sistema molto utilizzato in campagna si mette una bottiglia con questo liquido attira molto vespe calabroni quindi può essere utilizzato da uno zoologo o sarebbe utilizzato per contare quanti sono questi animali ma l'agricoltore viene utilizzato proprio per catturare e uccidere i calabroni che non sono molto amati nelle culture o le vespe che possono far danno qui vedete un po' di questi a destra di animali che possono avere questa attività di emergenza dal fango quando diventano adulti e qui vedete un operatore che sta piazzando una di queste trappole non c'è ancora nella parte alta manca ancora il barattolo però gli animali che escono vengono convogliati verso la parte apicale nei terreni si usa questo imbuto si chiama imbuto di berlese oppure imbuto di tulgren oppure imbuto di berlese tulgren qui dipende un po' dallo scienziato cosa preferisce berlese e tulgren un italiano e un danese hanno inventato questo sistema di estrazione della fauna del suolo il suolo è ricchissimo di fauna specialmente nei primi centimetri però si tratta di animali estremamente piccoli acari pseudoscorpioni ci sono anche dei vermi quelli sono più grossi si possono vedere ma gli altri sono veramente molto piccoli e quindi per riuscire a vederli bisogna estrarli dal suolo si prende quindi una zola di terreno viene messa dentro un imbuto e poi si accende una luce nella parte superficiale gli animali del terreno sono animali lucifughi non amano la luce se ne stanno nel bugio del terreno e poi amano l'umidità quindi man mano che passa il tempo la luce scalda non scalda tantissimo perché nella lampadina a basso il vattaggio sono circa 50 watt però piano piano il terreno si secca e gli animali hanno il tempo di scendere pian piano verso il basso della zona di terreno e poi finiranno dentro al liquido di conservazione non bisogna essere molto veloci quindi i tempi richiesti sono o di 5 o di 7 giorni perché questi animali sono molto piccoli si spostano agli interstizi del terreno se si facesse seccare velocemente la zola non farebbero in tempo a spostarsi hanno bisogno di appunto diverse giornate per scendere alla fine si ricava un indice di qualità biologica del suolo perché più il terreno è sano e poco inquinato e maggiore sarà la quantità sia di specie ma anche di individui che sono presenti nel terreno gli zoologi di Parma hanno individuato questo indice QBS qualità biologica del suolo trovate delle pubblicazioni qui vedete gli imbuti di estrazione che possono essere anche poi costruiti e messi in batteria noi abbiamo utilizzato questo sistema delle trappole dell'imbuto di Berlese per fare uno studio vicino ad Alessandria la Fraschetta la Fraschetta è una frazione di Alessandria molto inquinata vi sono diverse industrie la Montedison la Solvay che emettono dei fumi che poi ricadono sul terreno facendo dei campionamenti del terreno alla Fraschetta e poi estraendo gli invertebrati con queste trappole e confrontando i dati della Fraschetta con dati di altri terreni un po' più lontani dalle zone industriali abbiamo notato una differenza abissale i terreni della Fraschetta sono poverissimi di specie vi sono solo pochissimi individui quelli delle specie più tolleranti mentre più ci allontaniamo dalla zona delle fabbriche più aumenta il numero e quindi l'indice QBS del qualità biologica del suolo la Pitfall Trap è il metodo principe usatissimo dagli entomologi per catturare una grande quantità di animali che si muovono sul terreno il metodo ha un pregio molto semplice si tratta solo di interrare un bicchierino i bicchierini che si usano sono quelli di plastica da picnic o quelli della Coca Cola oppure delle macchine del caffè sono pochissimo costosi si scava una piccola pozza nel terreno si mette il bicchierino e poi in questo bicchierino si potrebbe mettere dell'acqua in modo che gli animali quando cadono nel bicchierino affoghino però l'acqua l'animale potrebbe in realtà nuotare e scapparsene via quindi di solito si mette di nuovo del stensio attivo oppure dell'acqua e alcol in modo che l'animale rimanga ucciso dal liquido si può mettere anche della birra perché si è scoperto che molti animali sono attratti dall'odore anche oltre che dal essere camminatori del terreno e quindi vanno attivamente verso la trappola se percepiscono l'odore e allora si può usare la birra che poi sarà un liquido che conserva anche l'animale questo metodo è usatissimo per gli insetti camminatori ma vi sono anche molti ragni che camminano sul terreno quasi la metà dei ragni sono ragni camminatori che non fanno granché di ragnatele mentre l'altra metà sono ragni che costruiscono ragnatele quindi non camminano e quindi l'idea di queste trappole è che maggiore è la qualità dell'ambiente maggiore sarà il numero di animali presenti che camminano maggiore sarà il numero di animali che finiscono dentro alla trappola esiste un indice basato sui carabidi che sono dei predatori alcuni di questi sono molto rari e sono presenti solo in ambienti molto buoni molto naturali e quindi si costruisce un carabidi index l'indice dei carabidi basato proprio sul numero di carabidi e sulle specie di carabidi che finiscono dentro le pitfall trap le pitfall trap quindi sono semplicemente dei bicchierini messi nel terreno però queste trappole potrebbero essere inattivate ad esempio dalle foglie che cadono trasportate dal vento oppure dalla polvere dalla sabbia che finisce dentro al barattolo oppure in certi casi anche da animali pensiamo volpi tassi cinghiali in certi casi che scavano per magari andare a bere la birra o per attirarti dall'odore o dagli animali caduti dentro la trappola in questo caso bisogna proteggere le trappole si può mettere come vedete a sinistra una specie di tettuccio sopra che riparerà dalle foglie dalla polvere oppure in altri casi qui non è rappresentato si mette semplicemente una pietra alzata con dei bastoncini in modo che non entri appunto foglie sabbia dall'esterno ma gli animali possono passare sul terreno e finire dentro questa è una trappola a suzione e serve per aspirare degli invertebrati dalla vegetazione il sistema è simile a quello che si può vedere utilizzato alle volte dai giardini nei giardini delle grandi città in cui ci sono degli operai specializzati che passano con delle macchine e soffiano le foglie per pulire le strade oppure i marciapiedi in questo caso la macchina funziona al contrario si sfrutta non la parte esterna dove l'aria esce ma invece la conduttura dove l'aria entra si mette una retina e quindi gli animali che vengono aspirati finiscono poi dentro questa retina il metodo è molto adatto per quegli ambienti in cui è difficile con le proprie mani che può apri occhi andare a cercare gli animali perché sono molto piccoli pensiamo ad esempio in mezzo ai cespugli della macchia mediterranea oppure in mezzo a un canneto ci sono tantissimi insetti ma anche moltissimi ragni di piccole dimensioni difficili da trovare che possono essere invece aspirati in breve tempo qui vedete l'uso di queste trappole aspiratrici invece in un ambiente più cespugliato come vediamo a destra oppure addirittura in un prato come vediamo a sinistra se l'ambiente è rappresentato dalla fauna del terreno si possono usare i carotatori il carotatore che vedete a sinistra è propedeutico poi utilizzare gli imbuti di tulgren perché si pianta un carotatore che è un po' un attrezzo come quello che si usa per il giardinaggio in cui si pianta si estrae una zona di terreno per poi mettere magari una piantina di insalata oppure di carote o un fiore il carotatore può essere piantato fino a 5 cm di profondità i primi 5 cm sono quelli in cui la fauna è più abbondante oppure fino a 10 cm in questo modo si standardizza anche la profondità e quindi è possibile fare dei migliori confronti dell'abbondanza della fauna del terreno che poi verrà estratto dagli imbuti di tulgren perché vi dicevo gli animali sono molto piccoli invece in basso a destra vedete una benna un carotatore enorme più grande che viene messo in un ambiente in cui il terreno sia fangoso sia molto liquido quindi non sia possibile estrarlo solo con un carotatore bisogna avere anche poi delle alette che si chiudono e che tengono il fan e qui vedete proprio l'uso manuale ma in certi casi sono veramente molto grandi si utilizzano poi dei camion delle gru per riuscire a mettere la benna nel terreno questo è il metodo del surber molto utilizzato per stabilire la qualità biologica dei fiumi quindi per vedere se il fiume è inquinato oppure no c'è una retina in cui finiranno poi gli invertebrati acquatici però la cosa importante è l'area quadrata o rettangolare che c'è nella parte anteriore perché questo delimita bene la superficie da campionare quindi alla fine si avrà la vera abbondanza sotto forma di densità perché noi avremo un certo numero di animali che sono presenti in quell'area che li verranno stanati uno per uno e che finiranno nella rettina e quindi avremo n numero di individui ma sapremo anche l'area campionata qui vedete diversi surber quello in alto a sinistra è molto grosso ha un'area di 2500 cm2 mentre quelli che vedete in centro hanno aree più piccole 400-625 cm2 a sinistra vedete l'operatore che sta scandagliando tutta l'area del surber sta estraendo dai piccoli ciottoli che ci sono tutti gli invertebrati che trasportati nell'acqua finiscono nel rettino alla fine del lavoro qui vedete l'area che è stata censita proprio stata si vede nettamente quest'area che è stata vagliata attentamente per restare tutti gli invertebrati se non c'è un fondo vero e proprio siamo ad esempio in un lago oppure siamo al mare al largo nell'oceano non siamo interessati agli invertebrati presenti sul fondo ma siamo interessati agli invertebrati plantonici quelli che nuotano nell'acqua libera vi sono molti crostacei ad esempio tipicamente che nuotano nel mare sono abbondantissimi e allora in questo caso avremo dei campionatori fatti con della rete molto fine che vengono gettati dalle barche e poi si tira su il campionatore che avrà raccolto il planton presente in quella parte di mare o di lago o di grande fiume il fatto di avere una rete si potrebbe anche tirare su una secchiellata di acqua però l'acqua è pesante quindi si preferisce tirare su questo recipiente soltanto con gli invertebrati che sono presenti nella rete senza avere l'acqua qui vedete a destra la rete è aperta quindi quando è appena è stata lanciata è aperta e poi man mano si chiude fino ad arrivare a sinistra con la rete completamente chiusa e all'interno ci sono gli invertebrati in quest'ultima immagine vedete uno di questi carotatori molto grossi in questo caso e tutti gli animali che sono stati catturati e sono finiti in questo caso sul fondo e quindi adesso lo scienziato li sta contando uno per uno grazie a tutti